Non sono ancora consapevoli. Voci dell'infinito attraverso Wanda, i fratelli dello spazio. Mi appello a tutte le creature che non hanno sentito come voi questo palpito d'amore e che quindi non sono ancora consapevoli, dicendo loro di aprirsi e risvegliarsi per poter percepire l'armonia del creato, anche soltanto nel guardare un vostro tramonto, quando il sole si nasconde per poi tornare ad essere visibile più luminoso di prima. Osservando il sole splendente nel cielo, potete forse immaginare una luce infinitamente più potente, la luce cosmica. E' un modo per farvene un'idea, anche se paragonato al suo splendore, quello del sole diventa insignificante. Voi, che non potete nemmeno fissare la vostra stella perché brilla talmente che vi abbaglia, pensate a quanto potrà abbagliarvi la luce cosmica quando vi avvicinerete a lei. Stasera, col nostro incontro, ho voluto farvi comprendere quanto sia necessario essere creature spiritualmente evolute e dirette verso l'infinito. Qui termina per ora il mio insegnamento. Benedico tutto ciò che vi circonda. Le vostre famiglie, i vostri cari, i vostri conoscenti e anche tutte le creature che hanno raggiunto l'altra dimensione in uno stato evolutivo avanzato. Le benedico in vostro nome affinché divengano consapevoli di quanto hanno appena ricevuto e del messaggio che tramite me voi volete inviare loro. Nel nome del Padre, della Madre e del Figlio, luce cosmica, e nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito puro, vi lascio con tanta energia e tenerezza che immetto nel vostro cuore perché siate sempre creature soavi, volte soltanto al benessere di una vita vissuta in armonia. Salve, creature dilette, salve. Grazie.